Ciao a tutti ragazzi, lei è Alessia e lei è Martina e adesso è un nuovo video e il video di oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, sarà la seconda parte cosa è questo? la seconda parte in cui noi proviamo i live hacks di tiktok l'altra volta ne abbiamo provati da veramente tanti che stavolta non ne abbiamo trovati molti, ne abbiamo trovati solo due che vedrete nei minuti successivi in termini di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi qui al nostro canale e attivare la campana di iscrivervi nel nostro video un altro ricordiamo di seguire tiktok ci chiamiamo in questo modo, io Martina sono da 09 io adesso sono da 011 raga e comunque io alleno una persona mi ha chiesto di essere salutata che si chiama Sabrina che me l'ha appunto chiesto su tiktok poi c'è un'altra bambina che si chiama Chiara che me l'ha chiesto sempre su tiktok però di salutarla su tiktok però l'ho saluto anche qui, ciao Chiara e ciao Sabrina allora scusa Sabrina se non ti abbiamo salutato negli scorsi video ti salutiamo adesso all'inizio perché alla fine ci dimentichiamo completamente come abbiamo fatto ieri sai perché? perché noi abbiamo fatto prima un sacco di video e poi li abbiamo pubblicati esatto quindi abbiamo avuto un attimo di caos e infatti alcuni ancora non siamo usciti a pubblicare comunque iniziamo raga prima io vi volevo dire una cosa e poi Alessi ha parlato del tiktok però comunque vi volevo dire scusate se non iniziamo ancora che dal 15 noi inizieremo ad andare al centro estivo quindi forse forse non riusciamo a fare video tutti i giorni ma se stabiliremo dei giorni ve lo diremo senz'altro raga noi andiamo di mattina mi sembra sì ma anche di pomeriggio a volte sì però noi restiamo anche di pomeriggio perché comunque c'erano delle persone che appunto non conosciamo che restano anche l'ora di pomeriggio allora raga noi li faremo vabbè li faremo alcuni prima perché raga insomma se decideremo i giorni da fare ve lo diremo subito ovviamente già vi diciamo che molto probabilmente molto probabilmente non è sicurissimo non lo faremo tutti i giorni però niente è ancora deciso allora raga io direi di iniziare a questo punto allora iniziamo col primo Alifax come vi ho detto ne abbiamo tratti pochissimi ce ne abbiamo solo due da fare e per questo ci servirà per il primo ci servirà dell'alcol e o infatti il secondo non lo so non lo so io un po' di alcol un penarello scarico guardate facciamo vedere che scarico vai vedete vedete è scarico lo potete anche far scaricare voi e niente dovrebbe l'alcol dovrebbe in pratica far tornare il colore alcol qualunque noi siamo questo qua davvero qualunque lo diamo questo però è uguale dovrebbe far tornare l'inchiostro cioè il colore al nostro pennarello che è come nuovo ecco cioè scarico quindi ora ne mettiamo davvero poco perchè non è che ne serve tanto comunque ok basta così ragazzi davvero cioè non so se lo vedete però è rosa è rosa allora aspetta mettiamoli mettiamoli così allora fatte anche giratelo così perchè anche come dire non solo appunto se deve bagnare ma anche vai fai un po' tu speriamo funzioni sono più bello è bellissimo ma chissà ma adesso ho cambiato colore è diventata viola no è diventata blu come il pennarello sì è solo che c'è adesso il pennarello perfetto raga io direi di provare subito allora ragazzi aspettate secondo me dobbiamo bagnare un altro pochino no no secondo me ha funzionato guardate guardate raga ovviamente se fate così no perchè dato che è bagnato è un po' così però raga non so insomma nei live secondo me si deve un pochino seccare perchè quando è bagnato ovviamente non è così colorato al massimo rispetto a prima che era così ora è così quindi dai però nel live devo dire che nel live i tiktok nei video funzionava ancora meglio però dai è funzionato secondo me però si deve seccare perchè se metti la con un pennarello poi ci crede no no ha funzionato benissimo raga guardate bene infatti più lo fai e più si cassa si infatti raga vero vabbè però abbiamo tose il rimedio dov'è il tappo che mai si è carinosa boh infatti è perché lo scarico perchè era proprio vabbè passiamo al secondo le fax che adesso manco si ricorda comunque servirà la vostra mano e della colla non sto per il video perchè anche vorrei fare allora in pratica mettendo la colla vinilica sulla vostra mano quando si seccherà dopo circa 10 minuti voi potete strapparla come una maschera pilota però non fa male no non fa male veramente potete strapparla come una maschera ah le me la metti noi usiamo questa che non usiamo per fare l'osline è quasi finita perchè questa non so cioè se a volte la usiamo l'abbiamo usata una volta però non ha funzionato quindi non lo so basta Marti si basta così ok un attimo ok ora vado a spalmarlo raga è soddisfacente non potete capire ah devi anche spalmare allora io ne metto un pochino di nero e beh certo raga è impossibile perchè è quasi finita secondo me però è pienissima cioè è pesante la maschera per mani è pronta ora mi devo metterlo sull'altra mi aiuti a schiacciare perchè mi sono usata sull'altra ma sai che stopperai di vivere un pochino anch'io aspetta aspetta te ne metto altra raga io ho messo cioè qua mi fa malissimo niente sono anche blu Ale c'ho la mano piena di colla prova a spalmare vai proviamo a spalmare niente da questa mano non ci sono riuscita però vabbè protestiamo su queste basta ok fatta spalma bene la mattina ce ne è leggermente no perchè se no appunto si fa non c'è più poi si è spalmito porco quindi si è spalmato perfetto fatto ora aspettiamo qualche minuto che si asciughi devo stoppare col mignolo perchè le altre mani sono tutte porche sono tutti sbordi raga ma poi la cosa figa di questa roba è che si vedono le tue impronte digitali vedete non so se notate io non le vedo come si fanno io le vedo non vedi queste linee oddio si sono anche attaccate comunque sono passate circa due minuti ancora a me invece va bene solo un pochino al centro pure a me allora raga questa mano non è pronta però qua è pronta infatti guardate se stava già stancata io la sto guardate infatti già si è tolta quasi quasi a me però non fa più allora proviamo aiuto raga guardate sembra che mi tolgo tipo uno strato di pelle fa proprio schifo infatti però non fa male cioè non fa male anche se vai forte non senti proprio niente non senti niente aspetti cioè io sono normale anzi secondo me raga restano le pronte digitali sullo stacoletto qua maronna santa vai via sapete che forse se le uniamo si può fare lo slime no non credo aspettate vedete io magari sto a fare il rito io ho tolto un po' il pastrello questo qui l'anulare però devo finire il dito vedete però è bellissimo si infatti molto soddisfacente sembrava niente si wow da che punto sei? è quasi finito del tutto no io invece la devo strappare la mano cioè non strappare la mano allora ho fatto un buchetto qui proprio ora qui e da qua andrò a strappare ok a me si sono fatta anche sul dito sapete perché? guardate perché io quando ho spavato si è fatta anche sul dito raga 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 guardate guardate quanto è lunga vedete qua è diventato lo slime raga è la maschera di colla non va moda secondo me va bene però cioè non è che va bene perché la colla non è che ti mette su le mani perché va bene secondo me io sapete che cosa voglio fare raga sta durando un sacco la mia colla io mi metto la colla un altro guano e alla fine e alla fine del video ma hai già finito il video? no ah ma devo fare altro? no basta vabbè allora io ne metto altre e poi domani vi aggiorno se eh domani se si e domani come stai tutto il giorno? ma cosa dici? domani le aggiorno però ovviamente già l'avranno tolta perché per me tanto abbiamo visto che funziona quindi si però è rilassante io che poi non mi cerco di esposare è una maschera per mani ormai raga io ho fatto cioè la mano l'ho fatta ok raga se voi ne mettete di più come mattina viene cioè non la devi strappare oh raga ma c'è pure però io non l'ho tolto un pezzo per volta cioè comunque andava bene si infatti ho venuto messa il piano attavia quasi tutta insieme si infatti comunque ve la consigliamo tantissimo eh comunque se mettiamo così tipo ad Halloween sembra che e la coperta di correttore sembra che tipo vi cade la pelle è tipo schifo vabbè si però la devi colorare è bello oggi perché se no ok io sto ancora finendo il gianto raga io me la sono rimessa cioè me la sono messa come prima già come l'ho detto comunque è un figata allora peccato che come c'era raga potete aspettare pochissimi tipo a me sul dito ce n'era dopo 10 secondi raga potrei solo farvi capire no la notazione ma poi io io noto che dico sempre io noto che dico sempre che diciamo sempre ragazzi poveri ragazzi anche noi comunque siamo ragazzi non è che siamo ragazzi come è capito comunque sono felici perché tutti e due le fa sono riusciti e niente se ancora non lo fate iscrivetevi vabbè non ci strappa qui al nostro canale e attivate anche la campanellina se non volete perdervi nessun altro video inoltre vi ricordiamo e ricordiamo ci chiamiamo in questo modo su questo piccolo pavolino ci chiamo in questo modo cioè io Martina 009 e io 0011 alieno ciao a domani